buonasera allora intanto buonasera al signor cristo buonasera a tutti ciao chat di poldo come state buonasera anche al signor cristo fa cose ciao belli e niente questa è una ship oggi siamo con edoardo e cristo fa cose cristo fa cose a due gambe cristo fa cose a due gambe è orribile come concezione ma c'è pure sedia guarda che sì che c'ero anch'io il solito ignorato di turno no ignorato assolutamente ignorante dipende assolutamente ciao belli come state come va assolutamente vero vero questo è tipo il multiverso che si è aperto è incredibile che tu stia facendo stia facendo una live con tre persone che non hanno una faccia tre cose che non hanno una faccia ho detto esattamente quello su cinque tre non hanno la faccia esatto esatto ragazzi pazzesco pazzesco ora non so fra un po' arriva berro però ho appena ragionato che in cinque non si può far partire una partita quindi andiamo semplicemente su fall guys e facciamoci una partita di allenamento ma tipo da soli ma che ansia si 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 noi quattro io sono in mega ansia io sono in mega ansia voi siete tutti bravissimi su fall guys vero ragazzi io ci ho fatto due game mi ha rotto le palle perché erano sempre le stesse partite noi salutiamo i signori di fall guys che ci hanno invitato al torneo ovviamente il gioco ci piace ci piace anche tanto christo stava scherzando stava scherzando ragazzi scaricate fall guys e anche fortnite quindi non possiamo dire male a fall guys eh no ah cazzarola di solito funziona proprio così mi raccomando più saturazione nel prossimo aggiornamento beh però questo è vero è molto colorato comunque ciao a tutti le chat ciao alla mia chat ciao alle chat di tutti voi io finirà male se ne vedete come ve lo dico ciao le chat ciao sono l'ultimo ciao a tutte le chat se siete la chat di Edo mi raccomando ti fate contro di lui solo per lui solo per lui fantastico ma quindi non possiamo fare gioco sleale non possiamo fare cose cattive non possiamo fare nulla no questa è una cosa molto triste no ma vi devo avere come amici su steam per invitarvi no bisogna essere su epic games su epic no ragazzi no ok come vi chiamate su epic games aspetta 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 però se facciamo lo spettacolo privato lo possiamo fare anche solo tra di noi giochiamo ok ci dobbiamo mandare il codice però ci dobbiamo mandare il codice ma in 5 sono troppi in 4 si può fare in 4 si lasciamo fuori qualcuno Edo votazioni chat che votate fuori oddio vabbè mando l'amicizia su steam a tutti e tre velocemente cristo già ce l'ho no ma si può fare con steel si può fare con steam ma a me non ma all guys non è su epic scusate ma è su epic eh ma vi posso invitare tramite no è su steam full guys ma che cosa stai dicendo io ce l'ho su epic full guys io ce l'ho su steam vi giuro che ce l'ho su steam ma forse perché c'hai il prima che è passato su epic solo tu ce l'hai su steam ma com'è possibile sta cosa vedi ah perché a me avevano dato la key tipo 5 anni fa quando l'hanno creato sto gioco mamma mia immagina ragazzi ma se io faccio una lobby no e vi do il codice eh la stavo per fare io vai la faccio ok falla tu dai falla tu perfetto errore anti cheat perfetto 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 potete farla voi perché non mi va a entrare mi dà tipo che c'è un problema di anti cheat sono un hacker sono un hacker ma che sta succedendo ragazzi sono un cheater non lo so fatela voi sei un cheater di full guys immagina madonna non me lo fa fare sto creando la lobby vai un attimo un attimo un attimo che vi do il codice dove lo scrivo però lo scrivo nella chat della cosa vai oddio santo ovviamente dime che distinto cosa è ovviamente oddio veramente è venuto da te a dirti questa cosa assolutamente sì ed è giusto così quindi alleniamoci per non far vedere il codice in live sì guarda io ho fatto io ho fatto una cosa fighissima quindi mi raccomando ok io cambio scena raga oddio santo io io faccio così ok ma avete inviato un codice non ho capito l'ho inviato nella chat no ragazzi non mi fa entrare nelle partite private perché mi fa errore anti cheat ma sei difettoso ragazzi sono difettoso sono mega difettoso in chat bettate la vita cioè è vero che dobbiamo fare le bet stasera non è che non mi fai entrare perché ce l'ho da steam oddio mi sa che devi scaricare più picche in live non è che stai non hai appena creato un problema grosso per la tua live ma sai che in realtà molti streamer secondo me ce l'hanno da steam ma tutti ce l'hanno da epic ma che è sta cosa ragazzi no ma non dovrebbe essere neanche disponibile su steam è disponibile fino a 6 mesi fa su steam poi è diventato di epic aspettate che nova mi sta facendo risolvere ora risolviamo grazie it 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 and ex per il prime grazie di cuore grazie a bria che regala una sub a debbie grazie ragazzi grazie di cuore grazie di cuore allora ora proviamo a risolvere di questo canale live on ti prego edo ti prego io veramente ti prego ma c'è berro ciao berro ciao berro non so chi ti devi dire ciao berro l'hai appena detto ciao piacere ciao ciao piacere signor berro allora adesso mi presento tutti quanti voi però signor cristo lei è stato tipo l'oggetto di un dibattito l'altro giorno perché l'altro giorno mi hanno stato gli amichetti e qualcuno in chat diceva eh ma ho stato anche polgo e qualcun altro eh ma ho stato anche cristo sono io e io pensavo che stessero trollando tipo che volessero prepararsi a bestemmiare robe del genere no ragazzi non si fa qualcuno che ha fatto lo shout out a cristo e dice no ragazzi ma cosa fate come vi permette e invece niente non parole beh effettivamente se non conosci cristo come streamer uno viene da te ti dice ah ti ha raidato cristo fa molto ridere mi stiamo in chiaro mi stiamo in chiaro è l'abbrilezione del mio cognome basta ok ok mi dispiace mi dispiace non ti ha dato pochi problemi no no vabbè ma insomma sti cazzi tanto non è che tipo dato che sono per metà vereto e per metà friulano non è che mi diano fastidissimo queste cose qui ecco trieste merda vaffanculo stronzo sarei bello tu che sei nato a caltanissetta dove cazzo ma guarda secondo me cos'è caltanissetta no no cos'è caltanissetta ma come cos'è caltanissetta comunque per fare una partita personalizzata no ragazzi ho capito qual era il problema io non ho mai disinstallato fall guys dalla prima volta in cui l'ho installato e quindi non aveva mai fatto il collegamento a epic io stavo giocando tranquillamente così che sfigatone che sei per fare una partita privata ci vogliono almeno 10 giocatori ragazzi quindi a meno che voi non avete un alt con cui potete giocare due volte mi sa che devo chiudere questa volta creperado grazie per il terzo mese è bello bentornato che va per colpa mia non ho ancora detto niente raga è niente è stata così eh mi dispiace ragazzi sono appena tornato dal cinema che sono stato a vedere bullet train sfigato vabbè raga ma facciamo facciamo entrare facciamo entrare i sub raga presentiamoci sì ciao allora io sono max sono amico di poldo e entrammo ascoltiamo la musica brutta però lui più brutta della mia perché io ascolto tipo le cose con i draghi le cose guarda che anche se li ascolta metal mi ha detto un concerto che è stato che cazzo erano i i vader i vader ma che cazzo mi scusi un sacco di tempo fa in più anche suono e in più anche streambo basta voi invece come state voi chi siete io sono una sedia tu sei una sedia a due gambe ma è scomodo ma è scomodo cazzo parecchio però ci ho fatto l'abitudine aspetta però ma è una citazione a quella cosa là che fanno tipo i mungitori di mucche che hanno la sedia a due gambe che possono quello questa è decisamente la prima cosa la prima volta che la sento allora praticamente gli antichi mungitori di mucche avevano uno sgabello che non mi ricordo come lo sai o a due gambe che utilizzano perché praticamente mentre mungono la mucca la mucca ovviamente che non sta proprio confortevole nel farsi pupare le mammelle da una persona che non sia un altro mucco allora tipo si sbianciano allora tu devi star seduto però devi anche avere della mobilità sul tuo sgabello e allora c'è una sedia a due gambe che pensavo fosse questo e invece no la mia chat sta dicendo l'or l'effettivo l'or di sedia grazie ragazzi per la lor hai visto vabbè allora tornavo inizio fra dieci minuti quindi la partita di riscaldamento non credo che la faremo ma no infatti ascolta nelle regole c'è scritto vettato il team namenates però non ce ne fotte un cazzo giusto o no o si non lo so si si ce ne fotte ce ne fotte va bene va bene però non è che tipo ci vediamo adesso lo butto nella lava quello stronzo di pol cioè se proprio non è necessario no ah vabbè tra di noi non ci facciamo gli infami ecco ma nemmeno teamiamo per dirla ma no nel senso se proprio devo dirti guarda vai avanti perché altrimenti no quel cazzo cioè io comunque se becco jumpy tecco lo butto giù dalla mappa allora non saremo né infami né in squadra quindi praticamente senza infami e senza lodo praticamente che troia raga sono istruittissimi io non posso dire lo stesso contro Edo però va bene ragazzi tra di noi Elenter Kun grazie per il quarto mese Isabello bentornato io so solamente la lord e la sedia a due gambe però non conosco né Edo né Cretto però quindi presentatevi io sono un'automa faccia cose è animazione storytelling ragazzi ma perché Lion è diventato un vtuber cosa è successo? non ho capito io sono sconvolta ma di che cosa state parlando? non lo so Lion è un vtuber in questo preciso momento va bene così riacciono annulliamo tutti annulliamo tutte le live e rideiamo Lion ma tra l'altro una cosa che ansia ragazzi non andate a vederlo e non c'era scritto che no allora dobbiamo andare dentro al al cristo del 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 trovo le parole vi giuro che so parlare raga ve lo giuro allora c'è un posto dove ci danno il codice per entrare in partita e non è questo posto giusto? oh cazzo non ti ho passato il discord di Arcadia vero? no Arcadia ce l'ho ma adesso noi non siamo nel discord di Arcadia no 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 ma dovremmo andarci ci sei nel discord di Arcadia non necessariamente il codice basta ah quindi io posso guardare il codice ma non avere il codice cioè hai capito insomma resti qui resti qui ti affacci svirci uh il codice ok vai sul discord loro c'è la stanza comunicazioni e là ti viene dato il codice ok e devo mettere anche devo anche mettere l'OBS delle cose giusto? quella è una una sorgente per il punteggio quando vuoi la fai apparire non deve stare sempre perché è grande quindi quando vuoi far vedere il punteggio attivi quella scena cioè è grande nella media è grande quindi? è insomma nella media e prendi tutto lo schermo in realtà browser quindi punteggio aspetta che metto così le dimensioni devono essere 1920 ah per 4 ottavano porca troia che megalomane che è quel che è quel nova organizzatore fantastico no no berro guarda che quando abbiamo giocato pomeriggio ho sbloccato fan numero uno di azione Miku come banner adesso me lo metto per puro esibizionismo dove cazzo è? fan numero uno di Miku godo sono un cazzo di attacco di merda quindi aspetta browser source aggiungere uno esistente mettiamo punteggio posso chiedere una cosa ma perché nel punteggio c'è Muso che ha meno 6 punti? se lo merito per il nome di Merda cattura c'è parte con meno 6 punti poverino povero Muso tra l'altro questo è il punteggio ragazzi se volete vederlo il primo è Turi non si sa in quale motivo io sono sesto dai oh a seconda faccio di cambio scena cosa vuol dire sta cosa? io sono sesto eccolo qua va che bello grande oh bella sta cosa cazzo ma siamo in 25 che porre il culo te la inco già pensavo di me cioè molti di più qualcuno ha cannato eh ma avevo visto la chart con tutti i partecipanti e siamo 25 no? ragazzi nelle mie chat qui ci sono i partecipanti io ve li mostro buonasera eccoli qua siamo tutti pronti anche Vittoria per fare cosa? ah però Vittoria Vittoria lo odia sto gioco mi ricordo ok mi sono perso mentre salutavo la chat che avete detto? ciao ciao di Cristo paramo del fatto che la provincia di Urbino non è legittima e dovrebbe essere esplosa perché? si ragazzi salutate i signori qui presenti ovvero Polto Sedia Edo e Berro Fronzo ciao ciao quindi un multiverso stiamo salutando le chat ciao 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 chat ciao chat si ragazzi c'è davvero azione miglia che ovviamente non ci sarà tutta quanta sta cazzo di interazione con la chat perché dobbiamo stare attenti a tryhardare come maiali esatto la mia ragazzi non parleremo molto in live mi dispiace beh no parlare sì però penso che ci malediremo la mamma tra di noi solo quando non tryhardiamo perché noi siamo i tryharder di Fall Guys non ho capito quindi ragazzi posso urlare? sì sì io sono in cosplay da Berrofronzo in questo momento su Fall Guys ma vai a fare in culo cosa ti sei travestito da elfo adesso entro e ti maledico la mamma no 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 da vichingo no già sono ah sei da vichingo ok e facciamo già si possono mettere le lobby e fra 5 minuti ci danno i codici e inizia il torneo ok ah mi raccomando ragazzi non fate vedere il codice in live no da vichingo la classifica è un ottimo modo per bloccarlo easy sì sì ah vero la classifica con tutta la gente che c'è al menu uno lo fa Berro hai letto le regole il fatto che devi inviare lo screen dei risultati? così mi ero detto sì 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 ok quindi appena finisce la partita c'è la schermata dei risultati fate uno screen una foto e la inviate nel canale risultati dai canale risultati allora aspetta che mi apro già un paint che così posso dove fare l'incolla come si compra la skin di Hatsune Miku? non si può cioè in realtà si sblocca tipo ah sì i soldi che ho comprato oh mio dio voi non lo vedete ragazzi perché c'è le mie cam e meno male allora la schermata di Hatsune Miku scusate vedo se c'è all'interno del pass con i punteggi non hai letto le regole dell'evento? è andato così stasera no c'ho già tenta aperto tranquilli posso allora nel canale regole evento c'è scritto tutto quanto sostanzialmente dopo che finisce la partita spunta la schermata dei risultati in cui c'è scritto ricompensa e tutto quanto ecco quella parte da scrinnare e mandare nel canale i risultati appena finisce la prima parte grazie papà ascoltami Poldo sì la skin di Hatsune Miku è presente all'interno del pass ai livelli 98 e 99 ma di che cosa state parlando? io chiudo un attimo il microfono sento la skin di Hatsune Miku c'è letteralmente la schermata di Hatsune Miku è proprio Hatsune Miku ok ho capito come nascondere il codice ragazzi ma dove giusto per sapere per un amico dove si dove dove è? è di Hatsune Miku no no aspetta cosa la skin di Hatsune Miku ah ok va bene va bene insomma ma quante cose eccola mi dispiace ma non sono il tuo segretario se Poldo non ti legge vuol dire che non ti può leggere mi dispiace Zami grazie del Prime caro grazie anche al dottor Mortacci per il dodicesimo mese e al lord Esti per il decimo ciao ragazzi bentornati bacini per voi va bene Poldo ci sono eccomi eccomi che è successo fratello dimmi tutto allora c'è una persona che ha detto che ti vuole bene chi è che ha detto che ti voglio bene? chi è che ti vuole bene? chi è che ha detto che vuole bene a Poldo? ditemelo c'è una persona c'è una persona che ha detto Poldo ti voglio bene dovete dirmi chi è stato oh non tutti insieme eh cazzo se no non capisco bene chi è stato? chi è stato? io sto ancora registrando sono tipo 20 secondi di nulla completo questa cosa la metterà in un suo video vabbè sarà stato sgabello a due ante lì quella cosa lì sgabello a due ante io sgabello è l'evoluzione in serio sgabello a due ante dopo tirai senti anche questo è l'or quindi stai tranquillo va bene va bene questo è tutto allora io vado a prendermi dell'acqua così adesso metteranno il codice e io me lo perderò perché non posso senti un attimo è il momento refreshing? è il momento refreshing? beh no sì beh potremmo cazzo e tra l'altro bisogna stare attenti a mettere ogni volta la cosa della schermata perché altrimenti se non metti la schermata non ti come si dice non ti credono che sarebbero cosa cazzo stai dicendo? ma infatti non ho capito l'istante allora alla fine della partita c'è la schermata devi screenare ah dei risultati sì se non la mandi non ti possono aggiornare il punteggio in tempo reale quindi è importante farlo esatto bene solo questo basta è che eri molto generico non mi so spiegare perché non ho i denti hai detto tipo vabbè alla fine c'è la cosa da mandare nel coso da mandare nel coso poldo senti il codice arriva con regole giusto? sì e io sono un 2008 grazie per le informazioni di nulla ma non è possibile che Cristo c'è 16 anni 17 adesso adesso 17 ragazzi ma è più alto di me non so come è possibile ma questi sono il più vecchio io già che vuol dire? quanti anni ha Berro? tipo è dell'87 Berro ah ok meno male dai allora niente ok hanno detto che parte tra poco quindi la mia chat mancava anche un minuto la mia chat mi stava dicendo che tra poco mi abbandonava quindi eh sì comunque ragazzi il mio statuto di oggi per la mia chat e per gli altri è che ho così tanta figa che ho deciso di passare al cazzo ah grazie ne avevo bisogno volevo avvisare tutti quanti madonna ragazzi è morta sedia sedia? no 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 sono viva però avevo lasciato avevo lasciato il microfono che va dio santo guarda sta cosa dei microfoni la odio la odio mi dispiace mi dispiace mi dispiace non ti preoccupare sono giocati ma chi è detto non è capito la fesa di tacchino go minchia ora voglia di fesa di tacchino è vero che è buona la fesa di tacchino è un botto buono allora sentite un attimo un consiglio da streamer professionisti quali voi siete se io metto all'interno del titolo i vostri nomi è per contesto perché siamo tutti quanti insieme all'interno del discord non penseranno che stiamo facendo team menamenates no no ma che quindi adesso adesso aggiorniamo il titolozzo il titolozzo la fesa di tacchino è troppo buona sì è vero troppo troppo with poldo ditemi proprio i nomi del canale come sono scritti giusti così li scrivo giusti edo in chat mi fanno che sono sconvolti che non credevano che ci avevi 27 anni sì ho 27 anni berro io su twitch sono eduardo fa cose proprio così però ha posito degli spazi la trattino basso eduardo underscore fa trattino basso cose esattamente ok e poi c'è cristo e cristo e basta no cristo is purple cristo is purple tutto attaccato sì però questo è il mio utente di twitch su youtube sono solo cristo no no vabbè ma adesso è twitch perché così se c'è la gente che ti cerca su twitch è twitch e poi l'ultimo è l'ultimo insomma ma non meno importante è la sedia due gambe una sedia una sedia una sedia una sedia ragazzi che sta succedendo ma che succede adesso cerco una sedia due gambe da solo perché quel terrorista ma davvero non conoscete sto pepe no allora andiamo su google una sedia che fa sapere che sedia è del sud Italia spammate una sedia in chat ha una sedia una sedia ha una sedia posso sapere vi prego illustratemi la loro di questo momento di che della sedia due gambe è un video di Marco Merrino in cui è a un certo punto c'è un gioco di wrestling se non sbaglio a un certo punto il personaggio esce una sedia quindi Marco Merrino fa oh mio dio ho una sedia signori ho una sedia mi fa molto ridere 5 cose che mi hanno sorpreso ai videogiochi devo andarlo a rivedere allora bellissimo ho una sedia ho una sedia signori ho una sedia quindi Fall Guys Fighters con Paul D'Odoardo fa cosa? Christie's Purple la sedia dei gambe ok qua la scrittura del titolo sono dovuto andare cazzo nel tuo youtube per cercare come si chiamò la sedia dei gambe se non è villania questa porca troia dove minchia è il codice per entrare sono già le 9.02 ma infatti siamo in ritardo qui siamo in ritardo scrivo a Nova gli mando la foto siamo in ritardo possiamo può partire tipo questo evento che già è stato abbastanza lungo non aspettare ma perché ti lamenti sempre? io mi lamento sempre in realtà perché è arrivato il codice della stanza ragazzi è arrivato il codice della stanza no mi raccomando non fatelo vedere mi raccomando ma io non ho niente qua devi andare là delle regole dei cosi ok lo stanno assolutamente no ragazzi fa troppo ridere il codice eh lo so effettivamente ma scusate io non c'ho ma ma scusate ok non si vede no c'è scritto c'è scritto c'è scritto il codice della stanza è il seguente e poi c'è scritto comunicazioni sono entrato sono entrato ma non si vede il codice ok ok easy eccoci qua finalmente ciao non si vede il gioco non si vede il codice da nessuna parte credo ok quindi posso far vedere il gioco un secondo io si metto il codice ma che codice fa troppo ridere credo che fa super ridere allora Sara Cardi grazie del prime benvenuto benvenuta a punto esclamativo telegram per entrare nel gruppo telegram dei sub grazie di cuore per l'abbonamento e anche a zami02 ah ti ho ringraziato prima grazie ragazzi non vi coso ma sono concentrato modalità likes con cuccio elenco dei giocatori aha uh elenco dei giocatori addios cane lupo che si non si vede il codice è vero posso fare switch allora sembra easy si si non si vede il codice c'è una personazza che sta che sta giocando no ci sono due personaggi che stanno giocando da switch ma sono impazziti è tipo scomodissimo ma come fai come fai a capire chi è da switch cosa mamma come fai a capire chi è da switch è perché sei il giocatore e trovi praticamente l'emoticon esatto ma io ho un joystick siete pronti al gaming viva il gaming che cazzo di frase siete pronti al gaming cos'è si vede che sei youtuber cazzo ho ste cacate per i bambini sto memando sto memando certo certo è la cosa che diceva anche ai vigili quando ti arresto no stavo memando ma era per il meme non volevo veramente anche io faccio come tu crimini contro l'umanità dicendo alla fine secondo me da switch non è così male dai io non l'ho provato so che è vero va tipo a stamp 30 frame quindi allora a parte il fatto che va più lento come frame ma lo schermo piatto e piccolo non ti dà profondità né capire dove cazzo sei una merda io non riesco mai a giocare ve lo giuro ma scusa che monitor hai il monitor 3d che è un figlio non l'ho capito è un figlio ma questo è extreme non dico extreme no no non penso vabbè ragazzi che vinca il migliore no 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 è easy ok ragazzi io voglio attivare nickname solo per buttare giù ok non devo dirlo perché non si può fare io sto per piangere non si può fare ragazzi non devo dirlo cosa devi dire no niente io ho già un target nella mia testa no io ne ho uno ne ho uno che è già uscito nei sondaggi no dai no fatti seri fatti seri no no io ne ho uno è già uscito nei sondaggi ragazzi ragazzi non partecipo vero? e credo di no però mancano tre persone chi manca? esatto non mancano tipo 2 io avevo letto 25 25 che pure basta non lo dico mi chiedono in chat di siumare secondo voi che devo fare? non basta non fa più ridere non basta no scusami che violenza no ma è che allora io non voglio ma non voglio siumare cazzo si deve cioè più che altro perché ogni volta arrivano in chat dicono adesso cazzo ho dato un puglio sul tavolo per dare rilevanza al discorso adesso farò il simpatico così tutti mi noteranno sium ma sono io che devo stream che cazzo è sta roba? quanto spelling? ma stai a casa ma che cos'è sta roba? madonna vero ma manca un po' così guarda io sono incattivito sei un po' ma che è che ritardo qua che manca solo uno? ma infatti dov'è questo cristiano? no a credo ne manchino due oh questa è cristiana no ragazzi ma gioca Nova no non è vero no io non gioco ma lui ti può un po' sfimare Nova è il giocatore più forte in Italia di World Guys ma che dici? no no non gli daresti due lire ma ti giuro che è così di che state parlando? che Nova è forte ma posso fare tipo Titanic che mi butto giù a primo round? ma possiamo fare tipo una betta contraria Berro Berro in chat da me dicono Berro se ti becco per strada mi metto a piangere dalla paura guarda che io sono una persona pericolosissima tipo mi dai un punto ah no è stato più forte al mondo non in Italia se va bene le palle cosa? no non è vero state scherzando vero sta memando una cosa una cosa mi piaceva la cosa del sondaggio moderatori di tutte le chat fate il sondaggio chi perde prima? Poldo? Berro? Edoardo? La sedia? o Cristo? Perfetto grazie a moda di tutte le chat io dico Cristo io dico Edo no Mattia e io punto su Berro no cioè non su Berro scusatemi su Edo grazie mille ragazzi sono dal Gino Time let's go si parte si parte si parte buona partita ragazzi buona partita buona partita buona partita buona partita che paura no no iniziamo malissimo no ragazzi questa no io mi metto a piangere iniziamo malissimo mi tolgo l'orologio così faccio il gaming ok 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 vai e cosa devo fare? ebbene ucio ok ma non c'è se devo andare qua bisogna per forza mandare avanti la cosa bisogna aiutarsi qua per forza fuck ma quanto c'è ma quanto gente ma non ho fatto ma come ho fatto no ma non si può no ragazzi no ragazzi no non ci credo non si può ok no aspetta aspetta ma spingete sto robo no è più facile ce l'ho fatto no ragazzi non ci credo ragazzi no non ci credo no no rage è arrivato in primo easy rage è arrivato in primo no ragazzi non ci credo avevo vinto non ci credo mi metto a piangere non ci riesco no ma ne sto secondo non ci credo ma perché perché sono caduto non ci credo mi metto a piangere mi metto a piangere non ci credo va bene ragazzi ragazzi no che è sì il maledetto oh oddio oddio mi qualifico godo godo ragazzi non ce la posso fare io no ragazzi come avete fatto mi dispiace ma come cazzo avete fatto io non ci posso credere la prima volta che faccio sta roba la posso fare oddio qualificato oddio santo raga che fatica ma siete dei tryharders furibondi no 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 nooo no ti ho adesso qualificato ragazzi sono stato buttato fuori proprio a cattiveria molto bravo è stato buttato fuori no io ho vinto io sono arrivato primo eh io all'inizio proprio mi hanno distrutto di botte non sono riuscito a fare niente quindi tutti adesso che facciamo scegliamo il nostro campione che ha perso o possiamo continuare ma abbiamo perso oh no sono fortissimo sedia la mia chatta ha votato il 65% che perde bastardi il 65% la mia che ha scelto ma che sono questi oggetti no hanno scelto me e infatti ho perso questi oggetti ciao pincio questi oggetti sono per farmare la skin di azuno e miku e non sto neanche scherzando ah chi se ne frega oh mio dio li farmi passivamente e vinci io sono spaventatissimo ah ma ci sono delle piattaforme fuori ho aiuto si anche volendo eh eh mi spingete vai berro oddio oddio ragazzi oh mio dio maledetto guarda mollo come mi viene no cristo no cristo no che paura mi stavo cagando addosso vabbè ragazzi ma anche meno tensione c'è edo dov'è edo edo voglio giocare non ci posso credere che ho perso prima di edo che vergogna edo edo sinistra 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 sempre sinistra no 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 ma io non vi vedo ragazzi in partita chi è missing boa 48 c'è uno che è mega morto calma 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 ti prego mi stai mettendo ansia nooo sono morto in modo in vera ho visto edo vai sotto edo vai sotto 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 sta arrivando bravi ragazzi bravi ragazzi bravi sei in tutti noi mamma mia ragazzi ma voi si è in partita ancora no io sono vivo cazzo ah no edoardo e berro godo ok dai facciamo le bet su chi passa edo berro ma edo è metallaro posso dire che se uno di noi due vince porta avanti il metallo devo per forza essere io o ascolta la meta non sono metallaro ma ascolta me ragazzi ma anche voi ha laggato proprio nel momento in cui dovevate vincere no questo ragazzo è super random io ho fatto la cazzata e basta ma come vedo questa qua ragazzi è la cosa più 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 random di tutta questa finale che palle buona fortuna c'è nuova in partita no è tosta questa no che palle si fa l'erba cavolo edo potrebbe perdere accidenti ok dai guardiamo edo ma come si fa questa guardiamo devi buttarti addosso a questi cosi e va bene siamo benissimo cos'è tipo tageshi's castle ma tipo più o meno vai berro sei il mio campione tifo per te vediamo se di qua si va no hanno aperto l'altra verso troppo tempo e ho già perso quindi no dai no no edo dai mi ha bisogno di sia di posto in bocca ma che cazzo si deve andare vai edo vai edo madonna edo può andare qua dietro ma ma come cazzo fa edo ad essere così forte vai 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 ma come cazzo fa ma c'è la posta parte madonna edo a destra edo a destra non è vero no edo ce la fa edo edo il grande edo assurdo vai edo ma come cazzo fa ad essere così bravo non ci credo ma come cazzo fa ad essere così bravo ma come cazzo fa ad essere così bravo chi ha vinto non lo so ma non è edo questo ma non è edo questo no è missing boa ma io pensavo fosse edo io pensavo fosse edo ma chi è missing boa non so chi sia missing boa secondo me è tipo un infiltrato grazie ragazzi per aver fatto un po' ma è normale che non mi abbia fatto vedere i risultati ma adesso sì neanche a me li ha fatto vedere i risultati neanche a me li ha fatti vedere neanche a me ha fatto vedere i risultati e vabbè e insomma cosa scrivo? finale? ah ma perché forse gli schifosi come noi che abbiamo perso non fa vedere i risultati no 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 io sono arrivato io sono arrivato in finale ma non mi ha fatto vedere un cazzo lo stesso ehm 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 e non so adesso cazzo mando il cazzo a nuova io lo devo fare beh dove lo scriviamo qua? ah risultati boh non fa vedere i risultati perché è privata non lo so forse non ci avrebbero chiesto lo scrivimento sì però sono scrivendo anche Frozen ha scritto insomma ragazzi comunque in chat mi dicono che è Muso e che ha vinto Muso ah ok Muso ah di tutte le persone che potevano vincere Muso ah si ha vinto Muso sì ok dobbiamo scrivere dobbiamo scrivere quando siamo morti? ma io sono morto subito io sono morto al secondo round posso sapere quindi che devo scrivere? ah tu sei morto al primo copio quello che scrivi tu Poldo vari utenti stanno scrivendo io adesso scrivo Poldo primo round no io lo faccio veramente chat scusate se non vi leggo tantissimo è una serata particolare ci stiamo mazzando di botte oggi è un torneo incredibile quindi ok dai speriamo che vada meglio questo questo secondo tentativo ma è quindi giusto i risultati li dobbiamo scrivere là ok e beh credo di sì perché Victor J fuori al primo round se ne dico al me una io faccio pipì se non vinci non fai pipì esatto non ho il pipo che sta succedendo ragazzi ho sentito pipo e pipì Leo ha scritto ultimo al primo round cioè tipo ero bloccato all'inizio ed ero tristissimo ragazzi ma ho preso tipo 50 gradi mi sei emozionato troppo sulla finale oh ma c'è Poldo e mi galvanizzo un sacco quando ti fa mannaggia a te che è successo? Poldo quando ti fa io mi galvanizzo un sacco scusa però il fatto è che non stavo non stavo ti fando muso esatto io stavo ti fando muso pensando fossi tu hai azzeccato tutte le porte e facevo vai Edo grande e invece tu chissà il cazzo stai facendo ma l'hai fatto a credere un sacco come ti chiami su Fall Guys scusa come ti chiami su Fall Guys 420 legs no si sono 420 legs ok e Deodardo come si chiama? mi pare Quercia 499 OH 499 ah ok OH 499 ok mi hanno appena scritto in chat sedia nessuno crede in te ora ma è giusto no no questa è cattiva ho votato 8228 gambe contro di te siete sempre i migliori chat siete sempre i migliori perfetto cazzo ho veramente vinto muso missing boa 48 non vale non vale l'ha accettato era chiaramente un cheating posso dire una cosa ma se io scrivessi nella chat di discord la sedia a due gambe ha vinto prima che lo scrivi il vincitore beh sarebbe un ottimo un ottimo modo per citare che poi c'è tipo un muso che scriveva vita what e insomma ho solo i 10% madonna ragazzi vi prego ok ora stanno aggiornando la classifica quindi ve la faccio vedere ok vediamo un po' infatti c'è classifica in aggiornamento ragazzi in chat sono 5 partite vi ricordo cosa? sono 5 partite cioè un punto per ogni round e 3 punti che si vince quindi io in questo momento ho 3 punti mentre muso ne ha 6 cioè vabbè è infinito ma raga è impossibile cioè nel senso se muso ha vinto vuol dire che è già posto fino alla finale del prossimo round anche se non vince e probabilmente vince io per arrivare a pareggiare lui dovrebbe morire spontaneamente lì dove si trova senza neanche entrare in partita e io dovrei arrivare in finale solamente per pareggiarlo no anzi lui sarebbe comunque cosa perché in teoria comunque un round diciamo che diciamo che se vinci una partita è game changing per la classifica sì che parli quindi io ho preso 0 punti se sono uscito dal primo round no in teoria è 1 cioè non so come funziona se fai un round e un punto perché ora ci sono 26 giocatori cioè lo fai perché lo fai come si può dire eh sì cioè stai 0 anche a me lo dice e insomma c'è dell'ansia a me parecchio soprattutto perché se mi mettono ultimo prima di dopo di poldo ma la vera domanda è perché siamo 26 giocatori adesso entra da bicocca ah che non ha fatto un round quindi è ultima possiamo ancora vincere sì possiamo ancora non fare la situazione ragazzi quindi a questo punto io credo che la vera classifica sarà tra noi 5 su chi arriverà facciamo la top 5 tra di noi per me va bene per me va bene a più tardi è poca da bere allora se per voi va bene al vincitore tra noi 5 ognuno regala una sub nel canale del vincitore eh no non vale io c'ha bello potrei iniziare a triardare vabbè ma scusa quindi vuol dire che adesso siamo io e Edo giusto in testa a questa classifica sì esattamente quindi scommettiamo una salda ma aspetta però Muso stava a meno 6 all'inizio è vero per meno 6 hai visto Giuse ma quindi scusa un attimo se lo merita all'inizio io penso che tu non prendi punti se passi una cosa hai un punto e poi quella dopo vale due punti perché grazie Haskan per il Prime benvenuto puntesco di Telegram per il gruppo Telegram grazie dell'abbonamento quindi tipo la classifica si sfoltisce immediatamente comunque dice che lo spettacolo sta per cominciare ma vedo che la classifica non è assolutamente strana io penso che adesso connessionerò il server in corso e vaffanculo perché lo spettacolo si è aggiornata la classifica un punto ragazzi iniziata la partita 4 punti noi ragazzi con le fagiolo che cazzo è con le fagiolo questa è la classifica ci siamo a 4 ragazzi ma come bello strungio a 0 Nova come al solito non ha capito un cazzo ma che dobbiamo fare in questa partita prendere gli anelli ma perché non li vedo in classifica non ho letto cosa devo fare prendere gli anelli devi prendere devi passare attraverso gli anelli devi rompere con il tuo corpo la presenza anale degli anelli no è sonic che succede dime ma hanno preso il suono da sonic si ma è sonic si perché è sonic devi prendere le monete dorate perché è sonic cioè ok epic games ebbene ebbene ho preso cristo no ho preso due ragazzi ho preso due let's go easy ok io santo mi sembra di ah no ok devo prendere 40 anelli per cazzo di fame guarda questo non so che ma scusatemi come 40 raga prendete quei cazzo di acceleratori sono troppi guardate quanto è stupido ma non sono stupido no hai il tuo personaggio che che no tirless guarda quello ma come faccio no 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 ok ho sbagliato tutto no ho sbagliato tutto eh niente questa la finiamo ragazzi ragazzi ho già 20 anelli è buono sì sì ottimo in realtà considerando che ne ho 15 ho sbagliato tutto come 15 quant'è oddio quant'è il minimo ma com'è che questi vanno più veloci di me cosa succede qualificazione ma qualcuno si è già qualificato come fai berro ho fatto 40 eh ho fatto 40 ma tu sei come devi prendere quel cazzo di tunnel che ti accelera ti fa andare alla velocità del sium l'ha detto l'ha detto signori ha detto l'ha detto l'ha detto prendi quel cazzo di acceleratore no 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 è una modalità di merda perché si qualificheranno tutti quanti non è vero in chat da me ci tengono a dire ragazzi si chiamano ring mi raccomando grazie ma andrì a fare un culo da parte mia manco li conosco qualificati bella così io sono a 27 su 40 ragazzi io 26 non so come state facendo a prenderli perché c'è una parte dove ci sono delle c'è una parte dove ci sono delle piattaforme che vengono fuori dal muro e mi prendi piramidi di anelli oddio oddio l'ho 35 38 no l'ho mancato non ci credo sei ancora 20 sedia oddio sono qualificato grande cristo ti ho visto ok sono un dodicesimo tredicesimo ragazzi i tuoi posti 36 37 38 40 1 1 godo ce l'ho fatto ce l'ho fatto ce l'ho fatto ce l'ho fatto non so come è possibile grazie ragazzi per avermelo detto in chat ce l'ho fatto no sedia shut up no sì ce l'abbiamo fatto ragazzi non ci credo mi metto a piangere che mi dà del tryhard grazie tronzo però infatti ci sono io qua mica tua no questo sono bravissimo questo sono bravissimo ma io non ho mai fatto questo ci siamo allenati duramente per tipo quasi tre partite per fare questa cosa cos'è questa roba devi stare devi stare sopra l'overboard prenditela con calma perché se rushi perdi ok finisce male fidati di me devi stare tranquillo e calmo e solamente tentare di stare su sta piattaforma di merda io non voglio stare ai lati anzi amai se stai un pochino avanti ma non troppo perché sennò ti buttano giù ma queste cose sparano pipi sì sparano pipi ti fanno rimbalzare fortissimo in avanti quindi stai attento cioè per aria no non ci credo mi hanno spinto giù non so come ma non mi ha toccato niente letteralmente ero fermo sono volato giù dalla mappa ma perché qualcuno clip ma che cazzo è successo io do la colpa nuova dov'è Ido qualcuno può farmi una clip così vedo al rallentatore che cosa è successo perché non è possibile no più veloce no 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 ok fermi qua fermi qua fermi qua oh 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 ci hai provato fermi no no ti giuro che arriva adesso la piattaforma da sotto così non devi prendere gli esagoni del cazzo no io sono sgravo vabbè io ho paura Edo let's go Edo vai ragazzi adesso stai fermo che arriva la piattaforma lo spingete lo spingete ok ok bocca troia raga guarda guarda che grabba chi è sto stronzo è Leo minnaggia altra yardo cheat qualcuno è volato malissimo non per dire è Marto Maserule no 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 ma lo è volato via no mi son distratto un attimo no no bello dove devo andare dove devo andare mannaggia la miseria stai sopra questo cazzo di coso sulla punta devi saltare di sotto Edo cazzo sono uno scarso di merda sto piangendo io gli piangono un pochino no chi è rimasto in vita io Edo ma come fai ad essere così forte Edo e Cristo questi esagoni qua dopo un poco ritornano che sfiga raga niente Edo forza la tua sarà sfiga la mia che così per un bug sono volato dalla mappa mentre ero fermo eh anch'io guarda il gioco lagga come una bestia infatti per questo ho perso io sto per piangere io sto per piangere vai Edo vai Edo allora Edo adesso devi aspettare e non farti uccidere dal martello rimani indietro appena arriva la piattaforma attento sali sulla piattaforma ma mi insegue Edo ce la possiamo fare c'è la piattaforma c'è la piattaforma ok ora gli esagoni però attento che cadi perché si tolgono giù aspetta gli esagoni pur di non si che cadere vai 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 ora vai Edo ce l'avete fatta godo ragazzi complimenti bravi ragazzi mamma mia Edo batte il pugno cazzo mamma mia gg ragazzi mi chiamo cristo grazie del prime talassofobia grazie al secondo me ciao ragazzi bentornati benvenuti spero vi troverete bene che ansia però mamma mia come va l'ansia ragazzi che ansia mio dio non si può vivere così ma solamente 5 se ne fanno solamente io già sono al limite oh no non so giocare a questo Edo questo è pesantissimo ragazzi qua mantenetevi sempre in movimento e state attenti perché la quel cerchio giallo intorno si restringe sempre di più ok ma quasi ritorno in vita le piastrelle si però dopo un poco dopo 3-4 secondi quindi non ci puoi oddio ci sono anche le palle che poi sparano la gente ma io vado da mazzare gli altri allora faccio così easy puoi anche camminare perché nel senso siete relativamente in pochi però stai attento a non farti tagliare fuori da nessuno tipo così io seguo Chris edo edo voleva cittare si sono anche le bombe la cosa ma negli esseri avidi qua gridi Chris occhio vai butti giù edo no non voglio buttare giù in realtà si ragazzi no voglio buttare giù edo edo segui la linea rossa attento edo attento edo no vai edo no no il tuo nemico è turi il tuo nemico è turi edo no io sto seguendo Cristo guarda che bastardi sono ancora vivo aiuto raga c'è devi buttare gli altri con le bombe bravi bravi sto cercando le bombe c'è Rage che sta tirando le bombe state attenti perché fa proprio l'infamone bravo non è su full guide che potresti cercare vai prendila prendila è là è là Cristo è là Cristo no non ho preso a me io se prendo non rispia la c'è una la c'è una ok stai attento ai lati più esterni perché vedi che si stanno restringendo molla quella cosa dio caro attenzione attenzione niente attenzione Cristo adesso non risolto più verso il centro verso il centro la bomba signori nooo 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 guarda Franza come grabba nooo ed è caduto infatti Turi e Tecno non so chi siano non so chi siano questi due e io Turi ci ho giocato insieme al torneo di Splatoon la bomba signori la bomba oddio questo è matto ha vinto Turi bravo Turi bravo per lui è bella GG quindi ragazzi non ho capito ma la scommessa poi alla fine la facciamo no perché io no alla fine no io potrei ritirarmi io vi aggiorno la classifica ragazzi al momento non è aggiornata alla seconda ma vediamo dove è Berro Berro è minchia sesto Berro bravo ma come sei sesto sesto io sono ventunesimo oh madre ragazzi non ce la posso fare questo è come sono ventesimo bella Cristo io sono ventiquattresimo ah stanno aggiornando i punteggi si stanno aggiornando sono cambiando vedete vedete stanno aggiornando adesso i punteggi godo ho tre punti mamma mia gianzia ho tre punti godo godo ho foli godo ho foli godo ho foli godo ho foli oddio ragazzi io c'ho comunque non era proprio male l'idea di cittare esatto cioè io adesso potevo scrivere ho fatto ho vinto la sedia finale vinto comunque con questa cosa che la gente si sta dicendo si stanno aggiornando le cose abbastanza perché Edo è secondo? eh deve ancora aggiornare le due ok 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 giusto sei il quattro esatto no ma adesso si deve ancora aggiornare devono arrivare il primo tutti gli altri mamma mia ragazzi sono on fire mi sta piacendo ma tanto finirà malissimo oh comunque Edo incredibile cioè rivelazione dell'anno pazzesca ma mi faccio schifo a sto gioco non so ho sbloccato l'ultra istinto ragazzi io non gioco foli guest da due mesi e sono ancora vedi ma il mio chat lo sa io non ho mai vinto la partita con la mia chat ma secondo me state tutti barando eh uguali io sto usando le macro l'autoclick ecco appunto comunque immagina cittare su four guys cioè hai pensato di una delle persone ignobili del pianeta hai sbloccato un nuovo livello di tristezza io ci sto pensando però posso posso essere triste per favore come essere extra triste ok vediamo chi tra noi cinque è più in alto uno volume il quattro no no vabbè ma nel senso questa qua ho fatto cacare avrei dovuto arrivare almeno in finale mi piace che turi su discord ha scritto alla fine vincitore mamma mia tra l'altro l'ha scritto ha scritto se stesso tipo in maiuscolo e vincitore in piccolino io avevo scritto tutto in caps lock turi vincitore io se vinco ho fatto un caps lock ho vinto io a bastardi morite faccia di cazzo in culo esatto ok la classifica si sta aggiornando grazie per i beat grazie mille continuiamo a distruggere sedi esattamente grazie per i beat donatore di redo continua a distruggere sedi grazie fral per il sedicesimo mese grazie a memme per il prime e a dartix cg per il quarto mese ciao ragazzi bentornati dimmi cose brutte ma dimmi sai che dimmi è quello che vende le armi a tutti perché gli piace scusa hai detto qualcosa di poco carino vero? no no si parla di risico ovviamente esatto è una sedia con la classifica in aggiornamento io sto infatti come se non ci fossero domani cazzo erano due punti in più se arrivavi in finale in realtà arrivare sempre in finale in realtà ti dà un disastro di punti anche se non vinci mai basta che tu sia costante ma se fai cacare ho fatto schifo la merda io adesso fra io sono uscito al primo round e al secondo tanto il secondo sono volato a caso mentre lo fermo se mi spiace io lo riporterei a Nova per farti dare un punticino in più io vi posso dire che a me sono partiti dei sondaggi dove all'inizio dicevano arriverai tra i primi dieci poi vincerà la partita e poi adesso sedia passa il primo round sempre peggio tu praticamente ormai stai diventando come una donna al terzo appuntamento dopo Tinder cioè che ogni volta le aspettative si abbassano di un pochettino secondo me secondo me non arriva dopo il primo appuntamento a quanto vedo al prossimo round sarà tipo sedia riuscirà a gioinare oh il sorvegliante grazie del prime bello benvenuto come parli perché non si dice gioinare signori la partita inizia la partita inizia oh cazzo no cos'è che brutta non è stata aggiornata è iniziata la partita è iniziata la partita ma che si deve fare qua devi scoprire la mappa l cerca il percorso nascosto ok quindi guardo gli altri ma è solo culo raga ma se cadi che succede ti respawno? no ricorri ritorni da capo ah ok ezz eh sì però sono cazzissimi tipo eh va bene va benissimo ho già capito ok ok è bello io eh non sai che è scattivo qua e niente no vagabondo che so io ma io faccio il guastafeste il guastafroste il guastacroste porca troia guarda che cazzo guarda me lo spingono maledetti eh sì no Leo fermo Leo maledetto Leonardo no Leo fermo no no tanta gente e adesso e adesso che arriva no 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 non ci credo let's go let's go let's go let's go no ti prego no ti prego ti prego ti prego chat chat che fortuna chat che fortuna oddio quattordicesimo no sono stato buttato giù maledetto Leonardo che mi ha bloccato Leo di merda no ragazzi che fortuna che ho ce l'ho fatta mi sono messo a saltare nella colla perché sennò col cazzo che rimanevo dentro la maledizione ragazzi adesso ci sarà una ci sarà adesso una di quelle cose super curse che si è inventato nuova dice adesso vi faccio la mappa peggiore del mondo dovete ragazzi ragazzi io vi voglio raccontare perché se no mi sono buttato fuori io non ho giocato sono stato con Leo a tenermi all'inizio fino a quando uno dei due non cadeva dalla mappa mi sa che sta cosa ci ha fatto perdere entrambi io non vincevo un primo round mi stanno sudando le mani come se l'avessi dentro lo strutto di maiale vi giuro è entrato? no e ora inizia no non è possibile che ho ho vinto un round e adesso non va più il gioco grazie caro ma grazie mille benvenuto per i dati ragazzi ce la possiamo fare ragazzi ma posso scrivere non sta andando io sono bloccato sono bloccato sono bloccato no 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 abbiamo appena vinto anch'io avevo vinto round e adesso round annulato da merda in maiuscolo spammate no non spammate che dicono su discord no ragazzi account è stato scollesso della lobby personalizzata lo stanno rifacendo a monte non lo so no ragazzi cioè avevo vinto ma è più games merda avevo vinto vero qualificato in way voglio che sia scritto che mi sono stato qualificasto ma 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 guardate che nove è uscito è perché è lost lost ha chiuso la partita vedi che ero giusto dire nuova merda allora il match si rifà ragazzi io adesso lo scrivo in chat non mi interessa niente codice vincitore c'è un altro codice c'è un altro codice vabbè lo metteremo ansia ok c'è un nuovo codice niente io sono qualificato della lobby e crashato detto io comunque mi sono qualificato basta io mi ero io mi ero qualificato io voglio io voglio i miei soldi adesso voglio adesso vado da nuova di busso alla porta che senti se non mi conti tipo ragazzi c'è il nuovo codice 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 già messo il nuovo codice arrivo non fatelo vedere mi raccomando c'è la clip di lo che mi fa cadere ok me la salvo io non ci posso credere questo è tutto cioè io ho vinto una partita da quando un round un round da quando ho iniziato a giocare full guys in tutta la mia vita e crashare la partita almeno non sono ultimo c'è sedia ultimo io mi sono qualificato io voglio i miei soldi adesso si rifà il round mi dispiace sedia la vita ingiusta lo sai vi fa schifo risultati la vita e ragazze in chat sono queste terza la terza partita sono cinque quindi fate un po voi farà la dura e dura un po più di previsto ma quanti e comunque l'anni totale 5 5 in teoria però questa cosa che si rifaccia perché si fa questo si rifà quindi in realtà 1 2 ma questo è il terzo perché il terzo è vero sono i video dunque di ora c'è la partita a il terzo giusto vero 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 madonna se adesso ci rifanno le stesse mappe e non mi qualifico ti giuro c'è esplore con fa schifo fan club è il club dell'oro che mi viene un'ansia cioè io non so io sono oggi guarda sono sono pronto con la pistola metaforica la pistola d'acqua twitch in chat da me dicono no va corrotto no va pagato no va pagato hanno visto che sei passato no questa cosa è quello il fatto cioè capisci ma che ha un nuovo corruzzo che sta scrivendo qualcosa su comunicazioni vediamo cosa sta scrivendo mancano due persone all'appello tra un minuto il match parte mamma mia ansia c'è nova nova l'inflessibile come il nome degli imperatori no mamma mia c'è pipino il breve nuova l'inflessibile comunque se nuova non passa uguale restarto non penso perché se non non ho perché nuova c'è non lo so veramente perché non può non può occupare il posto tre vi non so come funziona ma perché non mi sembra che si fa il senato non varia mai dietro se ce l'ho disconnesso il server quindi domani quindi proprio che non vale quell'ultima non vale ciao orion grazie per il quarto mese bello bentornato ma se esce il primo round adesso fino a domani no 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 io ti giuro che infattisco se sei di aver dal primo round ci togliamo tutti un punto a testa e glielo diamo esatto io mi tolgo il pipo per te bellissimo comunque guardare la classifica perché sono tutti quanti in stampatello maiuscolo che di alex graver cristo in maiuscolo tipo parte no di nuovo questa no di nuovo questo bella della sia già perso io c'ho l'ansia che vedo male la vedo malissima non ma ragazzi ma è impossibile sta mappa che palle è veramente impossibile sta mappa ci proviamo dai ce la possiamo fare leonardo bruno fermo bastardo sono primo non ci posso credere no piango merda è solo primo ragazzi già qui sono solo non ci credo no non ci posso credere non ho parole mamma mia ragazzi sedia dove sei sedia no c'è questo dovrebbe essere quella giusta ma non porca miseria no no ragazzi ma che il bastardo che lo allontana non ho parole mi sono qualificato ottavo godo bravo no non ce la posso fare fuori al primo fuori al primo no non ce la posso fare non ce la faccio ragazzi non ce la faccio non ce la posso fare sedia sedia sono letteralmente ultimo pure leo pure leo si è qualificato nooo cazzo che palle ho perso un animale ragazzi io e leo abbiamo litigato ad inizio mappa per tipo cinque minuti e siamo passati non so come è possibile sta cosa madonna che ansia ragazzi mannaggia io spero non ci sia quella delle uova perché mi metto a piangere no ragazzi no di nuovo no momento porca miseria porca miseria ragazzi grazie polo ragazzi vi giuro che se vengo anche il secondo round faccio tipo siummo no no sedia siumerà la sedia a due sium è bene mi sono già buttato come se non ci fosse un domani va bene così vabbè ma all'inizio ok si gode si gode si gode dai guardiamo vediamo un po' il dopo ma porco di nooo si scherza avete raccomandato a me dove si va dove si va aiuto edo aiuto mi ha spinto mi ha spinto nooo ma che tracollo mentale state sereni no assolutamente no adesso non esiste ragazzi non esiste ragazzi sta che sereni qui nooo ma te la sei cercata bro no ma ragazzi quelle bombe ragazzi quelle bombe ragazzi no МУЗЫКА il serio? no ma porca troia ok porca miseria porca miseria noooo eh niente foldo ci fai compagnia nel club degli ultimi? no e invece no nooo due parole e invece si che ce la fai noo bravi raga che palle questa roba che sono uscito subito che palle mamma mia adesso piango adesso piango avrei siumato prepotentemente l'hai fatto? no la tristezza nella sua voce mentre lo dice io non posso fare sta vita però io perdo anni di vita eroi da overboard ragazzi ma sta mettendo delle mappe che fanno cagare al cazzo secondo me le ha scelte nuove le più random e le più stupide non c'è skill c'è solamente random giuro giochiamo tutti random quindi chi è rimasto? io? ah tu? solo io? solo Edo? vai Edo ti faccio schifo in questa ti faccio schifo in questa dov'è Edo? ti faccio schifo in tutto è quello lo dog ok grazie cristo non so che fare che devo fare qua? di niente aia che testata aia aia dopo dopo ti ricambio sono impegnato oh qua sparano robe questa è colpa di treviso treviso merda ma perché sparano dei pianeti? treviso merda ragazzi non sa che fare della mia vita non è vero fai niente lo sai cosa fare let's go vai vai Edo Joe Biden vai vai let's go Joe Biden oh che fai? Joe Biden vai Edo vai Edo Edo con calma con calma con calma aspetta l'overboards Edo fa un respiro profondo vai vai let's go vai 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 Edo 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 Big F per Edo ma che stupido madonna sta qua non l'ho mai fatta l'avessi incontrata che scemo era proprio easy era proprio andata ma scusa ma sono tutti morti? esatto mi sa bello scusate ragazzi scusate la parola in chat no ma nessuno nessuno è arrivato in fondo cioè si aspetta di morire sul serio? sì bisognava arrivare sulla piattaforma la piattaforma è arrivata e voi siete rimasti fuori ah quindi dovete solamente suicidarvi cioè non si può vincere non si può arrivare in finale sul serio? te lo giuro non è che ritorna indietro epic games moment cioè allora in realtà se c'è no se c'è tipo se c'è un un martello o una roba del genere ma cioè si è eliminati tutti penso non lo so wow epico no io so che c'è il tempo e quindi vengono qualificati i ragazzi giochi epici momenti ma è veramente un gioco epico i ragazzi non stanno cadendo ragazzi don't fall guy adesso si spingono no si spingono si spingono adesso si menano no hanno scoperto la guerra guarda tecnologica li guarda round finito vedi vedi se ne fa un'altra parole sono veramente parole adesso si mi dice che bel torneo bello 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 fare i survivals nessuno ha vinto cioè niente finale ma bellissimo va che si gira i pollici in finale si è bloccato ragazzi no no mi sono messo madonna mia ti sconnesso ragazzi io ragazzi cioè l'ho detto una volta lo dirò per sempre no va pagliaccio ma no in chat in chat pagliaccio maledetto maledetto no ragazzi i ragazzi non stanno cadendo più ma perché i ragazzi i ragazzi non è un gioco epico ma cosa c'entra nova se crashava non è colpa di nova ragazzi bello full guys mi piace classifica in aggiornamento colpa di nova giochi epici momenti ciao alins ma ragazzi che delirio che delirio niente i ragazzi non sono caduti i ragazzi non sono caduti nova popi popi nessuno arriva in finale ma quanto me la fai durare sta live nova cazzo unfall guys i ragazzi non sono caduti unfall guys unfall guys io te lo consiglio comunque fall guys codice exuderone codice creatore exuderone basta questo codice exuderone per epic games ragazzi giochi epici ma cos'è questa ma dai che boomerata nova comunque no qua dice nessuno prende arriva in finale prendete solo i punti del round quindi io scrivo vincitore adesso madonna che schifo sono tipo hanno già messo a nuova lobby ragazzi veramente ma veramente ragazzi eccoci qua ragazzi ma sai che casino fare la finale in tre cioè adesso boicotto il torneo facendo venire tutta la chat in game si gode ragazzi si gode let's go grazie mille Lorenzo grazie mille ciao unfall guys unfall guys unfall guys è il momento io sto per piangere no ragazzi per reale bel torneo oddio davvero ragazzi per reale giochi epici esattamente giochi epici giochi epici ma questa classifica si può avere unepic game epic crash ma infatti la classifica è ancora in aggiornamento io voglio solo vedere che non sono arrivato ultimo poi per il resto ragazzi fate quello che volete beh allora mi sono porto al secondo round è un bene ho preso punti ragazzi in chat mi fanno Cristo pui dire a Edo che è il mio vtuber preferito non sono un vtuber piango basta smettere quella di chiamarlo vtuber no more falling guys by unepic games let's go esatto no more falling guys Cristo puoi dire a fondo standing guys standing guys è bellissimo no ragazzi ma c'è il quarto round c'è il quarto round nice e la classifica in aggiornamento ovviamente terzo round era giusto ragazzi ragazzi non mi mandate codici di partite a caso in chat ma che senso ha dai ragazzi giochiamo tutti a stumble guys no stumble guys no no non si dice lo odio quel gioco è una merda è una merda è una merda qualcuno mi può rispondere terzo round vero? era il terzo round quarto round questo qua è il terzo adesso siamo entrati nel quarto no intendo la partita è finita il terzo round la partita è finita il terzo round sì quindi al massimo si prendevano tre punti ok ma quindi ho vinto? ho vinto più guys? basta sei il campione hai fatto vittoria reale sedia yes vittoria reale comunque non so se bantarmi di questa cosa ma se fosse stato fortnite e beh mi dispiace stai tirando comunque mamma mia il round sparte fa 30 secondi ascolta Poldo sì ma c'è Nova no? che ha messo la sua data di nascita nel suo nome però in numeri romani sì quindi vuol dire che è tipo crede nel saluto nella stessa maia quindi deve stare cioè hai capito no? no non ho capito vuol dire a Poldo che è il mio youtuber preferito va bene Poldo sei il mio youtuber preferito no no grazie papo dai per Luca ragazzi noi ci vediamo durante Luca ci vediamo giusto Bria che regala una sub a Leo così grazie e anche a Super Nuke per il Prime ciao Super Nuke odio is possible no di nuovo non ci credo basta sono tredicesimo ma dai io non ci credo ma questa mappa è una merda cagherei addosso a tutti raga veramente sì no no iniziate iniziate ancora questo ancora questa mappa basta madonna giochi non epici giochi ripetitivi giochi ripetitivi ragazza miseria ahia ahia siete cattivi stavolta eh no è possibile no perché la gente salta e mi tira mamma mia ragazzi che fa stile che mappe di merda no ma io mi ero grappato perché non si è grappato aggrappate sì sono io ci sono ci sono tutto a posto siamo vivi no dai mi classifico mi classifico mi classifico mi classifico quinto sesto god ci siamo ci siamo yes sì un mico momento sì un mico no bria che regala una sub a ken grazie bria cazzo ma veramente non ce l'avete fatta raga sto impazzendo berro no è uscito berro berro no sto impazzendo non la posso sopportare sta mappa avessi saputo che c'era sempre sta mappa di merda avrei messo il grab automatico come fanno i martini di merda eh io l'ho messo porca troia che mappa del cazzo porca non ce la posso fare raga sto impazzendo che mappa di merda mi dispiace che niente cos'è sta cosa no non lo posso dire che è sta cosa schifa le cariche di rinoceruti ma che cosa ma che è sta merda che cosa devo fare cazzo porca troia non ce la posso fare ti giuro scusate sono triggeratissimo mamma mia cosa si deve fare scusatevi leonardo no leonardo no leonardo lasciami stare volete un tutorial su come vincere vi do un tutorial su come vincere fingete che il toro stia la fianza no no ma scusatemi 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 ma c'è solo questo toro o ce n'è altri sì ce n'è solo uno no dai questo è solo uno non ci credo no leo fermo leo ma poi tu hai una skin che imbarazza mi hai fatto via ma io mi chianti leonardo sei una merda ti odio leonardo brugnana ti odio ti odio leonardo ti odio ma ragazzi sicuramente bisogna giocare a dark souls bisogna andare dietro a sedere del vicino e c'è non eh poldo ma tu hai una skin che imbarazzo e ce l'ho anche in realtà tu ti speri ah ragazzi qua dark souls insegna allora ehm comunque ti volevo dire edo che ali è passata per dirmi che ha vinto il fatto che io avevo perso oh è arrabbiata la finanza ragazzi è molto arrabbiata che palle è entrato in puglia che palle ti odio leo è entrato in puglia basta ok ci siamo siamo vivi oh anch'io dai infatti troppo facile fool guys giochiamo a giochi più difficili tipo Minecraft uno che due coglioni non ce la posso fare raga cioè impazzissimo leonardo di merda è un cazzo di killer ti odio ti odio ma lui lui si suicida per farti morire a te non lo so si 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 mi ha gravato per farmi uscire ti odio ti odio leonardo ti odio ti odio la prossima volta che ti vedo madonna se ti incontro prestata ti sbatto la testa nei pali della luce tutti quanti in quel paesino dove abiti mi dì la tabella in fondo serio dice il percorso che mostro leo oh mio dio guarda meno male che non sono passato starei già urlando contro sto gioco e do e do let's go let's go e do ma che è sta roba dai devi guardare il percorso in fondo cioè tu sei il puntino luminoso e devi guardare dove devi andare premendo il pulsante centrale Giuseppe Conte ha detto che fa schifo ma come Giuseppe Conte e do non no dove io non ho capito è lo stesso percorso di prima devi tornare indietro ok abbiamo sbagliato percorso no ragazzi io sono stra avanti come sei stra avanti no è vero no ragazzi c'è un gruppetto di gente che è super avanti oh ce l'ho fatta non ce l'ho fatta ragazzi oh mio dio cosa allora Cristo 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 è semplicemente seguito tutti gli altri e sai è l'unica cosa che ho fatto ho seguito la massa il tragitto di destra è molto più veloce di quei sinistra ho solo seguito la massa ragazzi no non ce la mangià già a me bravo Cristo bravo Cristo ragazzi sono un vero gamer Giuseppe Conte sarebbe fiero ci vediamo adesso quindi come terzo round ah è vero io sono uscito mannaggia c'era davvero il terzo sì questa qua sono troppi punti no qua ero bravo esco mi metto il grab automatico così si esce per l'ultima volta sta mappa di merda del car anzi esco cos'è sta roba dovete rimanere sopra questo rullo allora quella cosa è la gravità zero tu se salti mentre sei dentro quella cosa blu finisci dall'altro lato prova ora che non ci sono Cristo daie 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 provalo adesso le meccaniche ah ma c'è gravier in finale il gravierone Cristo ok ok vai Cristo vai Cristo grazie grazie ansia sociale ok allora occhio con questo volo perché perdi controllo sì Cristo stai attento perché cioè la gravità zero arriva solo fino a un certo punto poi cadi giù a piombo quindi guarda bene dove cazzo salti e dove cazzo arrivi ma è importante che non vinca nessuno di quelli di prima chi sta tu ricci sta ancora io ormai tipo per Cristo tu ci sta mannaggia ok ragazzi l'ha infradito Cristo è l'unico che non deve vincere io l'ha infradito sono l'ha infradito sono Cristo ascoltami Cristo ascoltami che è importante no Cristo attenzione non abusare di sta cosa che ti butti in avanti perché non hai controllo sul tuo salto quando ti butti in avanti non fare il salto mamma mia non fare il salto non ti butti in avanti mantieni il controllo controlla la forza o la forza controllerà te cazzo cazzo berro nuovo geni Cristo Dio Cristo Dio ti prego oh mio Dio i genitori a casa di Cristo allora Gravier Gravier mio padre deve vincere Gravier ragazzi Gravier mio padre totale ha vinto Gravier ha vinto Gravier Godo Gravier Godo ha vinto Gravier bella così bello ho sminchiato tutto ragazzi ragazzi premete P per segnalare il giocatore sono troppo contento allora io adesso vi giuro ho tirato sulle opzioni in grava automatico hai tirato uno schiaffo alla scrivania sì povera mi dispiace chiedi le scuse sono contento per Gravier dai sì dai a me non ha vinto Turin ma la smettete di essere contenti per qualcuno che non sia voi stessi tanto Gravier l'ho invitato io al torneo quindi mi sono molto felice bella per te non mi hai fatto memoria la classifica quindi ma questo è l'ultimo round adesso ci sarà l'ultimo round è l'ultima ragazzi è l'ultima del torneo eh sì l'ultima del torneo bello eh mi sono proprio divertito no scusate scusate salutiamo EpixGame che guarderà questa hype no io non saluto saluto Nova che ha una selezione delle mappe tarate nel cervello e questa è la cosa più divertente che il mio contenuto mi permetta di fare e ti mette il percorso invisibile ma come cazzo si fa la smettete no io ti giuro Giacopo grazie per il prime lo so per dire per il novantesimo mese grazie di cuore per l'abbonamento bello cioè non ci può essere un'altra cosa cioè io Nova gli voglio bene come persona ho dato delle infinite possibilità ma se organizza qualcosa nuova io mi devo incazzare per forza cioè non esiste boh Berro sei molto salti questo tuo avete ragione scusate questa tua tossicità mi offende un pochino quella mia che cosa? cos'è che è toxic? toxic è vero 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 posso chiedere una cosa giusto per sapere ma quindi in classifica io sto sopra Berro? credo di sì è appena uscita no sedia sedia è ultimo no non è ultimo ragazzi però sono in pari sono ottavo ma non è possibile sono pari sono pari con Turi prima va bene così non è possibile gravire primo ragazzi gravire primo mamma mia ma assurdo comunque io sono sono il tredicesimo sono la metà classifica vabbè adesso vinco questa partita e ho vinto sono sotto di Leo comunque nonostante di partita siamo morti per tutte e due nello stesso momento comunque io per dire potrei vincere il torneo se arrivo prima io direi se vinci questa sì forse sì io voglio voglio scrivere al prossimo che sono arrivato tipo a un round che non è vero io voglio scrivere a Nova che se non aggiorna un attimo sto cazzo di parco mappe lo vado a cercare a casa e gli cago nella cassetta delle lettere Berro mi piace il tuo entusiasmo a prendersi la tari cazzo e ci trova sto stronzo fumante momento il momento kaioken momento kaioken mamma mia oppure oppure butto fuori sia turo che musica gravier turo si può fare turo che in mente ragazzi a me basta che non arrivo non arrivo ultimo tra di noi vi prego sarebbe proprio imbarazzante ok silenzio signori ci siamo ci siamo iniziamo malissimo ok no è una è una race ragazzi se esco vuol dire che sono scarso e basta che devo disinstallare sto gioco di merda per il resto della mia vita cosa si deve fare Berro si deve correre dopo questo game facciamo tutti quanti una bella vanilla su minecraft per tranquillizzarci come vado a dormire come si passa di qua grigno cristo sono avanti grazie ok ci siamo siamo vivi da posto ok sui secondi piani aia aia mi sono schiantato la faccia nella vita mi fa male la faccia perché la sto sbattendo a terra io non so cosa sto facendo quindi andrò dritto chi mi ha spinto ma non ci credo zio pera ma zio pera zio pera no no mi ho dimenticato mi ho dimenticato mi ho dimenticato porca miseria no no mi ho dimenticato ti prego 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 ti ho pregato ok che però gli è anche bestemmiato la mamma tutto il tempo ok ci siamo ci siamo ok no un gula mamma oh proprio lei amica mia torna a casa tua ci possiamo arrivare ci possiamo arrivare dai come che mi si è schiantato mannaggia la miseria ok prendiamo un po' di tempo prende così prende così vai edo come sta andando per voi raga io sono abbastanza avanti io sono letteralmente secondo assoluto bene così sono molto avanti infatti mi sono appena quello che è arrivato allora in questa mappa dove non c'è dell'arrivo mi sono arrivato terzo dove c'è della skill involuta no sono dai ci arrivo ci arrivo ma porca troia eh io non ce la faccio tutto bene schifo gioco di merda scusate ragazzi no no è bellissimo chi di scusa è giocchi epici fuori guy è vero è vero fuori guy oh santo c'è ragazzi non posso far sta vita però io io ho una pensione a prendere l'importante è partecipare vero mamma mia vince chi si diverte di più no ragazzi io non gioco più io non gioco più basta non ci distallo sto gioco non ci credo mai più basta alt f4 che è sta roba oh quella di prima ok io sono ancora vivo la vedo malissima ma se adesso che state scrivendo che è uscito al primo round scrivo secondo round ti vedi allora fallo io ti assicuro che anche anche dopo aver cacato nella cassetta delle lettere di Nova un po' me ne avanza anche per te se fai una cosa del genere easy non ho capito dopo allora dopo che avrò cacato nella cassetta delle lettere di Nova che comunque se lo merita se fai questa cosa che dici no io sono in realtà in realtà comunque me ne avanza un pochino anche per te oddio sono morto davvero no non sono morto ti ringrazio dove è berro? no no oh mio dio questo sto guardando te fatti forza vai berro ragazzi no vi prego ragazzi no no vai berro no 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 cristo edo 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 berro berro vinci no dobbiamo tifare scusami edo perché se vince lui se vince lui berro perdi dai non si tifa così dai edo guarda edo guardalo edo che citta oh godopoli godopoli oh godopoli oh ma c'ho ansia per voi ma chi è sto coglione che mi prega è bertra è bertra bertra che mi tocca ma perché lo dice con la rechiusa bertra bertra lilly puttana grazie del prime pontesca radio telegram per il gruppo telegram e anche all'eroz per l'ottavo mese bertra bertra schifoso mi hai tradito dopo quel pranzo vai edo vai edo vai edo non ce la posso fare edo gravi era perso edo gravi era perso impazzisco impazzisco allora gravi era perso edo sei tutti noi dai edo però c'è turi quindi occhio non farti tagliare la strada alla fine poi dai edo la vedo male ragazzi no no io la vedo benissimo fare attenzione ai borseggiatori occhio al martello edo fare attenzione ai borseggiatori se ti servono informazioni rivolgiti esclusivamente al personale indivisa trenitali ma perché mi ha buttato giù il martello evita il martello evita il martello mi ha voluto far buttare ma perché bertra maledetto vai 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 edo vai edo no dall'altro lato no edo no edo no edo no edo vabbè l'importante è che ti classifichi vai 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 ci sono ci sono su vai 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 l'importante è che ti classifichi l'importante è che vai edo dai uuh santo cielo ragazzi non posso far salire allora edo la finale se vinci dono 10 sub al tuo canale l'ho detto no vabbè l'ho detto l'ho detto è turi no ho perso che palle no posso ritirare l'ho fatto delle 10 sub ero troppo in line scusate ragazzi mi chiedo scusa se mi sono in comunque io io chiedo scusa alle persone che sono dentro sto discord per tutta sta saltines che non mi appartiene di solito anche noi letteralmente urlato tutte le volte non so se ragazzi scusate c'ho il mal di testa da quanto sto rosicando addio dopo ne facciamo una in squadra noi quattro ci sto siamo in 5 allora ne facciamo una noi 4 oh turi è morto edo tu sei il panino qua vero edo butta tutti giù fallo 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 sono caduto è caduto un altro dai 1v1 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 edo edo contro rage allora rage è forte a rage se si desubba rage è forte sappiamo 10 sub da poldo madonna che stronzo edo che stronzo edo ma io ti amo non ci credo 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 ha vinto ha vinto ha vinto ha vinto ha vinto for guys ha vinto il torneo non ci credo ha vinto il torneo non ci credo non ci credo ragazzo è veramente caduto non parole non ho parole il ragazzo è è praticamente caduto hai vinto non ci credo non ci credo ragazzi ha vinto edo non ci credo non ci credo non parole non ci credo non ci credo ho vinto edo queste sono le soddisfazioni ha vinto la gloria ragazzi non ha vinto nulla guarda Per me abbiamo vinto il torneo Per me abbiamo vinto tutti E infatti Edo perché era nella nostra squadra No ma io ho goduto più per la vittoria di Edo Che penso per la mia ragazzi Sono emozionatissimo Bria grazie per la sabre regalata a Yukin Grazie di cuore Non ci posso credere Allora c'era Rage che aveva molti punti Ma non so se ne ha tanti quanto tempo Perché tre punti per la finale sono tanti E' sudato abbastanza Edo Che poi alla fine ne hai vinta una sola Grazie mille Chi ha giftato Grazie premi vittoria Grazie dimmi sei un pazzo Edo tra l'altro questa qua è la prima che effettivamente vince Tu sei stato praticamente quello più costante Diciamo Che è sempre arrivato in finale e non si è mai arreso Esatto Porca troia Edo non si è mai arreso E a inizio live io ho detto che puntavo a Edo come ultimo Oh cielo ragazzi Ci abbiamo provato Ho vinto il torneo Si aspetta la classifica Si aspetta la classifica Aspettiamo la classifica E poi Si aspetta la classifica E poi mi vado a suicidare No stavo scherzando Nel senso che le sedi non possono Dimmi sei un pazzo Grazie per le beat Mi è crashato anche Steam Va bene è andata così Mi è crashato tutto Fantastico Ma io metto Herz of Courage di sottofondo Appena appare la classifica Herz of Courage Vai Ce l'ho Ce l'ho Oh mamma mia ragazzi Non ci posso credere Oh mio dio E vabbè ragazzi Grazie Alice che regalano a Sabba Palmucci Grazie Edo è mio amico È mio amico Io lo conosco È mio amico Ha vinto lui Boh guarda Mamma mia Dentro il mio cuore Io sto tipo sto bruciando di rabbia Di cazzi È nel mio discord Il vincitore è nel mio discord Però almeno Almeno sono contento che ha vinto uno di noi Cazzo Siamo in chiamata È qui con me E poi c'è la mia parte di Arcadia Poi E di fianco qui Sto volando Godopoli Dai La classifica Prego Ma che ha vinto Edo Ha vinto Sì 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 Hai vinto Mamma mia Bravo La vittoria Doppia 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 Gigi Spam di Gigi in chat Signori Mamma mia Edo puoi dire Edz Per la chat Per favore È stato easy Voglio la chat che lagga Io sto volando Io non ci posso credere Grande Edo Ragazzi In mezzo a tutti questi creator Io a casissimo Io non ci volevo neanche venire No scherzo No 100.000 euro di monte premi Oh santo cielo Io non sono arrivato Abbiamo No aspetta Abbiamo una proposta Golosa No Edo guarda Ti vogliono far perdere Oh mamma mia Oh mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia Abbiamo un santo cielo Oh mio Dio che cazzo Se dice di fare un altro round Io non lo faccio Anch'io Io non lo faccio No 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 Basta Mi sono già umiliato Round bonus e i punti valgono doppi Siete in così tutto può cambiare No ragazzi Ha vinto Edno Io mi tengo il primo posto Grazie Mi tengo il primo posto Grazie mille Io ho votato no Votate no Votate no Votate no Dove c'è scritto No 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 9 su 6 Grazie Io ho messo l'orda Sì no mi sono subbato Perché di regalare le sub Che io non sono neanche Sub Mi da quel cazzo Quindi piuttosto mi subbo Prego ti amo No ragazzi no No Non può vincere sta cagata merdolta No 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 Io vado da Nova Svito il cassetto Sbagliatissimo Doveva essere previsto Sin dall'inizio Un round bonus Con doppi punti Quindi non hai ancora vinto Ragazzi Ragazzi ammutiniamoci Uscite tutti Andiamocene Andiamocene Facciamo finta di nulla Scam 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 No No 10 a 7 No Ma no No ragazzi Ma che ti giravo Ti devo staccare Non da mangiare C'ho la pizza Ma io voglio dormire La pizza Scam Ragazzi dove ti vanno Da Venezia Scam Oh hanno regalato una sub a Berrofronzo da me Grazie Grazie No ragazzi stanno scammando qua No No ragazzi Spam di scam in chat Perché non va bene No 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 ragazzi no 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 però i ragazzi davvero Non posso stare Guardiamo il sondaggio Cioè In questo momento Nel scritto Chi gioca 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 Io esco Io esco raga Sono stanco Mi sono rotto il cazzo No però effettivamente è vero Non hanno considerato i punti di Turi di prima E col fatto che è arrivato in finale a 22 punti No perché Rifacciamo la Sì round bonus Round bonus Ma come round bonus Ma di che caso stai parlando scusa Ma come round bonus Round bonus si fa Oh va bene ragazzi E vabbè Alice grazie per un'altra sabbregalata Però smetti Grazie mille Ho vinto Sì per me Edo ha vinto Per me Edo ha vinto Basadissimo ma Edo ha vinto Io la faccio giusto perché così miglioro sicuramente il mio punteggio Perché molti di voi se ne saranno andati Ok E dia non ti far umiliare ovviamente Grazie ragazzi siete i migliori proprio Ok non si viste il codice Pog Bria Che arriva a 100 sabbregalate Complimenti al carissimo Bria Complimenti Complimenti al caro Bria Bentornato Benvenuto E ciao Ciao Grazie di cuore Grazie per i 100 abbonamenti Non so perché ho detto benvenuto Bentornato Grazie mille Bria 100 abbonamenti Sono contento Grande Abbandona dicendo che se n'è andata la luce Dio santo Grazie ragazzi Siete i migliori Nova scam Scappa Dai che se vinci ti fai Se vinci Che bello Marshall veramente No è vero però Cioè tu li è arrivato in tutto il giro di mappe Sì esatto Marione Vabbè ragazzi facciamo l'ultima Facciamo l'ultima Umiliamoci Che altro mi da per il cazzo Che c'è L'unica cosa che dà fastidio di sto torneo È che ci sono state tipo uno spam Di tipo due o tre mappe Che si sono sempre ripetute Ma c'è fai almeno una rivisitazione Di tutte quante le mappe Ever Così nessuno si può preparare Eccetera eccetera Io se sapevo che questa qua veniva sette volte Oh ne sono c'è un'altra veramente Appunto Oddio Appunto Sul serio Classifica di Fra Divertiti Dai L'ultima partita ragazzi 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 vincere La partita di Volguys Vince e vince Edo Vince e vince Edo Vince e vince Edo Non ci rende Ok Oh ci la possiamo fare Dentro oggi dai Dai Zio pera Zio pera Zio pera Sto tryhardtando Come una bestia Io non so giocare a sti giochi Ma io non so giocare a nessun gioco Ma perché mi si alza il muro subito Cristo Dio Dai 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 Vabbè non ci credo Io ammazzo qualcuno Oh mamma mia Ma se vincere anche questa C'ha una eh Se vince anche questa Se vince anche questa Si è pregalata Aia ho sbagliato Madonna ragazzi Sono concentratissimo Mi stanno sudando i palmi delle mani Come se fosse Io non ci riesco proprio Ragazzi Non ci riesco proprio A giocare Ma i miei sono bloccato Dalla texture Mannaggia no Eh stupido io Stupido io Edo sono Sono vicino a te Bravo Grazie No mannaggia no Ma questa voce da doppiatore Dei cartoni Let's go Let's go No 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 Treviso Treviso merda Godo No Sono un albero Sono un albero Qualificato Godo Let's go Let's go Let's go No l'ultimo qualificato Ti odio Tecnoid Di rendere family friendly Le frasi famose Mi conosce Tearlass Anche io riconosco Tearlass Lo amo Ciao E ciao Giorno di Francesca Si gode Che palle A nessuno interessa Che sono stato eliminato Oddio Mi sei bloccato la camera Ok Stammatelle Per poldi Ma quindi forse Non sono ultimo Tra di noi Esatto Oddio Questi qua Non la so giocare Ma è giocata Cioè dov'è Dov'è poldo Poldo ha otto punti Mi sa che l'ho superato Ragazzi Mamma mia Codo Sì mi hai superato Io ho preso due punti In questa round Ok No ragazzi Mi è esplosa la camera Mentre Sì scusate Let's go Let's go Mi è esploso la camera Oh mio dio Che cos'è questo po' È una banana signori Cosa è questo po' Ah ok Non sono morto No No Fare il serio Fa il serio Sono Ok Secondo Va bene Ma sul serio Cioè nel momento Vai Qualificato Qualificato Edo un grande Ragazzi Edo un grande Vai Edo Ma come si gioca Ma sei fortissimo cazzo Ti faccio sbagliare No ragazzi 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 Cioè se vincendo Anche questa qua Ci ha confermato Campione Della caduta Ragazzi No Il vincitore Dei giochi epici No L'epico giocatore C'è ancora C'è ancora Gravier Che deve scendere Mi fa schifo La vita Ok Uff Mamma mia Ragazzi Sediare con un cappio Al collo Mi fa schifo La vita Avete presente la serie di sedia tipo questo gioco fa schifo Deve ancora fare il video la vita fa schifo La vita fa schifo ma quello la sanno tutti Ma ti rendi conto i ricchi di questa cosa cioè io non ho mai vinto una cosa adesso che sto Sgravando Fighissimo ha detto non ho mai vinto una cosa Che triste Ma c'è Un cazzo Round finale Eh no Mai faccio schifo qua No Si L'hai detto in tutti Round finale ragazzi Era un finale Votiamo Vedere Tutta la vita Vedo se vinci Ci sono anch'io Comunque No Non ce la posso ne fa Ragazzi questa Lo dico Edo uno di noi due Almeno No Ragazzi 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 Sì ma coi doppi punti basta che vince uno di voi ha vinto il torneo Che è stronzata sta cosa ha i doppi punti Easy Gigi easy Oh mio dio Ok uno di noi tre allora deve vincere Vai Edo Vai Edo Vai Edo Ragazzi in chat per Edo Let's go Ah io vado da Edo perché deve vincere Deve vincere Edo Deve assolutamente vincere Edo ragazzi No ragazzi non ce la faccio Ma stai zitto Edo eh Edo ha schivato una granata Edo ci vuole il mindset Edo il mindset da imprenditore Vai Cambio risata Sede cambio risata Tu risi sei mio No Edo Fa un culo No 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 Non l'ha fatto a posto Cazzo No Povero Povero Cristo No Vabbè Povero Cristo Che è stato messo in croce Eppure Preferivo che vincesse Che vinceva No Edo 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 Ok Attento ai percorsi No 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 Mollu Mamma mia Madonna che strat Madonna Edo vai Edo vai Ti prego E mollo sta tentando di buttare giù Edo per avere un problema Ci ha provato bello No Adesso No E' andata E' andata Berro No chi ha vinto Ha vinto Turi Ok Mollu non ha vinto niente Quindi Non lo so Forse ancora Edo primo Forse ancora Edo prima Hanno cambiato classifica Che dicevano che Turi aveva sbagliato il punteggio Non lo so Ma forse ancora Edo primo Perché Mollu non ha vinto un cazzo No Scam 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 Io sono arrivato penultimo tipo Scam Ragazzi adesso basta Devo andare Aspetta l'aggiornamento della classifica almeno Sì sì no Sì sì Che paga Edo si stava ribellando Oh raga io me ne devo andare Io ho avuto la mia vittoria oggi Che sì nel senso Anche se Vittoria di morale Amorale Vittoria di tutto Finale con lo smile Edo Finale Con lo smile passivo aggressivo Che bumerada Che bumerada Della ragazza che ti dice fai quello che vuoi Round finaler Finaler Oh santo Tanto a Cristo che fa Cristo round finale Snowy ti segno subito Snowy ti segno Ti segno Dai ragazzi Dai Dai Speriamo cazzo Ragazzi Hai pinchat per favore Hai pinchat ragazzi Per piacere Ti prego Ti prego Edo Merita Merita Edo No non lo so ragazzi Perché tu ridiceva in chat Che avevano Non me ne importa niente Non me ne importa niente Devi vincere lo stesso Anche il round bonus È finito Il round bonus Che gran Come si chiama Secondo me Se ci doveva essere il round bonus Ci doveva essere Ma normale Con i doppi punti Si è proprio Con i doppi punti Ti dovrei aver superato Musica type Giusto Musica type Earth of courage Vai Ancora Earth of courage Vediamo Vediamo Madonna La mia chat È tutta un colore Bellissima Dai Speriamo Speriamo bene Cazzo Ci sono 100.000 euro In palio Comunque Devi vincere Cazzo È vero Non c'è niente Esatto C'è la gloria C'è la gloria Esatto Let's go Let's go Dai E con sta classifica Boh Non lo so Non lo so Edo smettila di essere Forse ho ritrovato Un minimo d'onore Con questa finale Ma insomma Forse C'è solo perché Doppi punti Ne fai una giusta Cioè Con i doppi punti Con questi quattro Aveva davvero messo Doppi punti Quattro Dieci Sedici punti Solamente in un turno Spam di pregio In chat Madonna Cioè troppo È sgobato Dai ragazzi Dai E speriamo Hai in chat Ragazzi Hai in chat Da me Da me è tutto Un prage Ci sono i pepe Per i gatti Che pregano Per Edo Vai Forza di pepe Speriamo Cazzo Boh Edo quindi Se ne va via No Adesso sto qua Ancora Però Avevo capito Che c'era uno Di noi Che se ne andava La classifica Dai Intanto Chiudo Sto gioco Della Guarda Volevo sapere Che se ne andava Che in caso Facevamo Una Noi Quattro Tipo Quelli che Remanevano Io 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 Basta Non ce la faccio E allora Mi piacerebbe Mi piacerebbe In un altro momento Non a full guys Giocchiamo a qualcosa Ma non a full guys Esatto Sì Io Non so se l'ho installato Obiettivamente No Vediamo che cosa c'è Che possiamo giocare Tutti quanti insieme Dai Sta classifica Dai Dai Cazzo Ho rimesso Essio of courage Per la terza volta Potremmo buttarci su Potremmo buttarci Let's go Let's go Dai 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 Continuate col pregio State dando la forza Ad Edoardo Comunque sia Mi piace molto Caro Edo Il tuo disrespetto Appena accennato Che hai messo tipo L'avatar del tuo Pippolotto Davanti al barcode Così nessuno Inizia live È stato bellissimo Bellissimo Keep going Dato che Nova Mi fa incazzare Allora metto sta roba Let's go Dai Let's go Bellissimo Sì Rick Esattamente Settimana prossima Ma cosa vuol dire Preage È l'emoticon di Pepe Che prega Ah ok È solo che tu non l'hai Perché non hai Dai Tu che sei Esperto di cose Che si umano E robe Qual è un gioco di squadra Che si può fare in cinque Nascondino Eh? Nascondino Porca Nascondino mi piace Non lo so Io comunque Scrivo ad A Di mandarti una foto del cazzo Così la smetti di fare lo spirito Ma non ce l'ha il cazzo Come signori Comunque Io dopo questa Stacco Ma come stacco Ma sei live da un'ora? Vogliamo sapere Chi è il vincitore Vogliamo sapere Ma infatti A me scrivi in chat Edo lives matter Ragazzi Perché non è Perché non hanno vinto niente? Perché Edo non ha vinto niente? Perché Non lo so Il sistema È il sistema È malandato È maledetto Fellone Dai Giusto Un minuto Ed è aggiornata Dice Nova In chat mi dicono Che ci vogliono vedere Su Fasmofobia No Io me ne vado L'unico fantasma Che vedo È quello Post pizza Post pizza Grazie Edo Che hai ricordato A tutti Di essere napoletano Nova Sta scrivendo Pregiate in chat Raga Pregiate Si gode Si gode Si gode Stiamo facendo Un ultimo check Su richiesta Perdonate l'attesa E vabbè Dove sono I miei punti Non voglio Che Edoardo Fa cose Un nuovo Credro Che nessuno Conosce Vinca Cazzo Un ultimo check Su richiesta Scam Allora Poldo Abbi pazienza Scam Un torneo Dove Cioè Non si vince Letteralmente Nulla Dove stiamo Memando Da tipo Due ore Di seguito Tra gente Che non ci si Conosce Tu vai E dici No Io voglio Che venga Controllata La classifica Del mondiale Costruttori Perché se Edo Non è Gli allettoni Regolamentari Allora Chiedo Che gli venga Commissionata Una penalità Cioè Ma che Cazzo Edo Devi esporre La tua partita IVA Tu evadi Che cazzo Ma che dire Secondo me Edo Ha toccato Il cordolo Nell'ultima finale Non va bene Niente raga Non arriva A sta classifica Chat Pregate 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 Voi Continuate a pregiare Come state pregiando Let's go Ragazzi Let's go Vabbè Comunque Il mio momento di gloria L'ho preso Sono tanto contento Ed era totalmente Unexpected Edo Io ho messo La canzone Della vittoria Io Me lo aspetto Io me lo aspetto Depresso Calmati Depresso Calmati Cioè Io mi vedo Nova Con questo schermo Gigantesco Dove ci sono Tutti quanti I replay Che si riguarda Uno per uno Tipo il var Maestro Di speed game Secondo me Edo era In fuorigioco Alzato il braccio 30 years later Ma come cazzo si fa E dia sopra Poldo Sul serio Possibile Giusto Normalmente dovresti stare sotto Perché devo sedermi Sai Edo Quando vuoi No ma sta scrivendo Attenzione Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Adesso dice Stiamo facendo un altro check Stiamo Stiamo Guardando Tutte le live Esatto Purtroppo Cristo Nel secondo round No 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 Ragazzi No Perché io sono Sottopoldo No No Ragazzi Nova scam Nova scam Va bene Nova scam Va bene Va bene Nova scam No Questa cosa è ingiusta Cioè obiettivamente sta cosa Non rende contento nessuno A parte tu No 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 30 punti Così Sono troppo deluso Sono molto deluso Va bene Va bene Va bene No tranquillo Leo sopravvolto Suca Bastardo Leonardo Brugnara Ragazzi mettiamo una canzone triste Vediamo se nella mia playlist Scrivo Sad Emotional Sad piano Downloader royalty free Perfetto E beh Sad song piano No ragazzi Mi spiace No ragazzi È stata È stata dura No Ma seconda di hop Posso dire due parole Per Edo Un porco E la prima E la seconda No No Io Edo volevo dirti che Ho tifato per te Fin dall'inizio Io pensavo che Avresti vinto Ma Non è stato così E questa cosa Mi spiace Edoardo Guarda come Ti hanno anche taggato Edo 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 È molto close Per te 5 Rubox Io Pezzi di merda Fan culo Pure la presa Pure la presa Per il culo Capito Dobbiamo lottare No io Ma cosa sono i Rubox Sono i I V-Bucks Di Roblox Ah ok Scam Io ho creduto Fin dall'inizio No ragazzi Questa cosa è scandalo Io sono a pari merito con Franzo Sono decimo praticamente Io sono a pari merito con Poldo Poldo abbiamo lottato Ma alla fine Ma vattene a fare il culo Scam No Scam Ciao Ciao Nova Ti vi vi a te Ti vi vi a te Ti voglio tanto bene Grazie per questo Ma ti vi vi cosa Nova No cattroia Dove avevo vincere Io non lo so prendo su personale Qui sul mio gruppo No io sì No ragazzi Maledizione No guarda mi dispiace Ma perché Turi Adesso gli abbiamo dato Anche un punto in più Così Cioè per me Adesso è a 31 Corrutti Corrutti Noi Ma tra l'altro sì Vedo è arrivato in finale Adesso io non ho idea Di come abbia fatto Così pochi punti Io ne ho fatti otto tipo Vabbè ragazzi È stato un bel torneo Io vi ringrazio a tutti Ora vado E adesso Saluto anche io Adesso saluto Ciao ragazzi Saluto a tutti Io mi muto Saluto Saluto Quando volete Si organizza qualcosa insieme Assolutamente Per noi due Io ti ho ancora invitato Ti aspetto Assolutamente Assolutamente Un bacione ragazzi Ciao ragazzi Ci sentiamo Ciao belli Grazie a tutti quanti Ciao 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 ciao